lezione 36 vorrei spedire queste cartoline vorrei spedire queste cartoline in italia o all'estero a seoul corea del sud vorrei spedirle per posta normale o per posta prioritaria posta normale per favore bene in totale 10 euro vorrei spedire queste cartoline in italia o all'estero a seoul corea del sud vuole spedirle per posta normale o per posta prioritaria posta normale per favore bene in totale 10 euro lezione 36 vorrei spedire queste cartoline vorrei spedire queste cartoline in italia o all'estero a seoul corea del sud vorrei spedirle per posta normale o per posta prioritaria posta normale per favore bene in totale 10 euro vorrei spedire queste cartoline in italia o all'estero a seoul corea del sud vuole spedirle per posta normale o per posta prioritaria posta normale per favore bene in totale 10 euro grazie a voi o